La prima staccata Basterebbe che finissano adesso, Claudio va in finale Però ci sono ancora da fare altri 3-5 giri Battaglia intanto per la seconda e per la quinta posizione La prima staccata L'attacco violento intanto alle spalle di Claudio Piccato da parte di Van Aster ma proprio nel tornante della 4 si è difeso il pilota italiano La prima staccata L'attacco violento intanto a fermo Claudio Piccato alla curva 3 deve uscire purtroppo Finisce qua l'avventura di Claudio Mentre indietro andagliero L'attacco violento intanto a fermi 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 La prima stazione è in place numero 5 L'attacco a fermi L'attacco a fermi E' il campeonato europeo! E' in questa finalità! Straub, ormai la bandiera a scacchi, è in vista. C'è un arrivo invece per il quinto posto al Pulpicotone. E andremo a vedere come verrà chiuso, ma intanto il campione in carica, il campione della Repubblica cieca, è lui! E' Ticotemba che va a chiudere tra lo sventolare dei ragazzi. Poi in seconda, terza e quarta Straub, Kovac, Schoenel e Schoenel. Ehi, andiamo, attenzione, Versa, Mercier! Vanek, Tenier! Oh, si, 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 Mercier! Oh! 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 Diciamo che chi ha una partenza sempre allucinante è Timo Paller, che parte in terza e in quarta fila, dopo tre gol e quarto terzo. E' sempre un affatto adesso in quarta posizione, e questo non è una semplice hit, con magari tanti comprimari. Qui siamo in semifinale, quindi tutta gente che ha portato a casa già dei signori punti nelle precedenti. FILE INDIANA, veramente FILE INDIANA, davanti a tutti i quattanti. Come on te, Mercier! Tenier! Un… ... ... … … ... … ... finale dove nessuno prende in largo, i due francesi sono davanti e quindi conducono loro le danze, Mercier e Thigny davanti ma dietro tutti gli altri non perdono l'ingaggio la finale alla 30 quando arrivi dopo cinque dopo al sesto gira sulla bandiera a scacca e qua sono Mercier e Thigny, big fight for the 3rd place, big big fight for the 3rd place between Milan Bariega e Thibaut Paner eccoli qui, nuovamente nessuno si stacca, tempi praticamente in tempi 3, 3, 4, tutti e 7 con lo stesso tempo, pazzesco la classifica non cambia, Mercier, Thigny, Vanek, Paner e Laubach nel finale in questo momento, ma lì attenzione perché Andrej e Sesto è in passione Passione Mercier è in fronte di questa pubblica finale, lì attenzione, Axel Thigny due francesi, poi il 3rd place è la città, Milano Bariega, in fronte a Timo Paner e Sibaut Paner What a passione! All'inizio dell'ultima tornata, vediamo che non è cambiato nulla perché i piloti dalla posizione iniziale tranne adesso che Vigny ha allungato, tutti gli altri sono lì che partellano, quasi tutte con lo stesso tempo e quindi è difficile andare a cambiare le posizioni, abbiamo ancora proprio all'inizio di quest'ultima tornata Vigny con Thigny alle spalle, poi un po' allontanato mentre invece inizia L'ultima tornata nella scena finale con i 2 piloti francesi che andanno a chiudere quindi ovviamente l'esaltazione per Florian e i suoi vicini della stessa nazione ci stiamo peccinando e poi tratta lo stesso a te l'idea di vetro, l'idea di vetro i chers amis francesi va a Saint-Mercier remporta la demi-finale va a Saint-Mercier to do it in this semi-final just in front of Axel Tenier il 3rd place goes to Milan-Vanik the club to Timo Boller and that place of attack